buongiorno buongiorno oggi domenica 29 gennaio rassegna stampa in breve di video 33 un nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione cielo sereno su gran parte del territorio alto tesino temperature minime temperature massime in linea con la giornata di ieri in alcuni casi alcune flessioni con l'aiuto di matteo berto andiamo a vedere qual è la situazione questa mattina sulla conca che ospita la città di ebolzano le luci sono quelle del capoluogo l'orizzonte il cielo sereno che come detto ci accompagnerà per gran parte di questa domenica di fine mese andiamo a vedere le aperture dei quotidiani locali e nazionali che troviamo oggi in edicola l'alto avige tassista fratello indagato l'ispettore accusato di violazione di segreto d'ufficio tutto nell'ambito dell'ormai famoso caso della presunta aggressione a bordo di un taxi nella zona di via palermo parla il fratello di alex noi langer e il cuore nero dell'alto adige contro gli ebrei la domenica dell'alto adige le novità editoriali del quotidiano due fascicoli in più con i libri la gastronomia casa e lavoro l'inaugurazione dell'anno giudiziario troppi furti aumenta l'allarme sociale per quello che una volta veniva definito il fenomeno della micro criminalità i vigili urbani chiudono la sala giochi in via gaismair a bolzano la lotta al gioco d'azzardo e poi la tragedia in montagna con la vittima sul monte luco l'apa di merano piange piange mur teatro stabile di bolzano spettacolo gender il direttore zambaldi dice il teatro fa ancora paura io l'ultimo sopravvissuto un racconto da brividi la storia della domenica raccolta da luca fregona pagina 28 29 bruno bovo messo al muro con gli operai della lancia nel 1945 per lo sport hockey sarebbe le bolzano cerca il riscatto e oggi c'è il family day e ancora sci copa del mondo doppio argento in libera fil e goggia come jet ottimo quarto posto di dominic paris sempre per la cronaca a livello locale la cronaca lingua tedesca cura del settimanale set la domenica la cronaca è delegata alla set al posto del quotidiano dromiten ci si occupa dell'allarme l'allarme nel corso di inaugurazione dell'anno giudiziario l'allarme lanciato per l'aumento dei furti nelle abitazioni ma non solo ancora una tragedia a innsbruck una donna di 83 di 84 anni ha perso la vita nell'incendio dell'alloggio dove viveva il corriere dell'alto adige giustizia tensione sulla delega il procuratore generale dice indipendenza c'è il rischio risponde compaccio vi tuteleremo il distributore di via gais maire a bolzano i residenti si ribellano esposto contro la provincia due padri lottano per i loro figli trattenuti dai parenti in repubblica slovacca e poi indenità bloccate monta la protesta i sindacati dicono l'inps assuma personale il patronato aiutiamo i disoccupati rapidamente la cronaca nazionale e internazionale con il corriere della sera trump ferma gli immigrati bloccati in aeroporto quelli in arrivo da sette paesi interviene hollande e dice l'unione europea deve rispondere la cronaca tedesca con la bildam sontag intervista a martin schultz principale avversario di angela merkel nel corso delle prossime elezioni in germania il sole 24 ore riforma avanti niente scorciatoie il governatore vi sconvita a non sottovalutare le conseguenze dell'incertenza politica che pesa sull'aumento dello spread è tutto vi ringrazio vi ricordo gli appuntamenti da non perdere in particolar modo 1 coppa del mondo di sci a cortina super gigante con protagoniste le donne è veramente tutto buon proseguimento di giornata